Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Buonasera e bentrovati a questa edizione di Podismo Informato del 7 dicembre. Questa settimana è una settimana molto particolare perché è quella del Ponte dell'Immacolata proprio in questa settimana vede moltissime attività in tutto il Veneto, in tutte le province e quindi diciamo che il nostro mondo del Podismo è molto attivo, molto partecipativo e proprio in queste occasioni ci rendiamo conto di quanto sia importante il nostro motto camminare, correre e socializzare perché proprio in questi momenti di vicinanza al Natale ci si rende conto di quanto sia importante incontrarsi, di quanto sia importante per molte persone l'appuntamento infrasettimanale, l'appuntamento domenicale della marcia. Comincio con il primo appuntamento, quello di questa sera, con la Paleoran. Vi aspettiamo con partenza alle 20.30 presso il Parco Etnografico di Via Valli 2 a Rubano proprio per la Paleoran. Ricordiamo come sempre che in Paleoran è possibile depositare gli zaini, esiste un ristoro finale e soprattutto ci sono vari programmi di allenamento l'Evolution, l'allenamento per i camminatori veloci, l'allenamento per i camminatori medi-lenti nonché i pacemaker per i runners a 5, 5.30, 6 e 6.30 minuti al chilometro. I percorsi prevedono per la corsa 9,2 chilometri mentre per la camminata 5,5 chilometri quindi un buon allenamento infrasettimanale. Ringraziamo il Comune di Rubano per l'ospitalità. Veniamo già da domani nel cuore della settimana del podismo. L'8 dicembre sempre a Rubano ci sarà con partenza da Piazza della Repubblica un evento ludico-motorio con percorsi da 2, 5 e 10 chilometri a passo libero la Corri con Babbo Natale proprio perché siamo in vicinanza a Natale e dunque anche il mondo del running vuole ricordare con eventi simpatici quella che è la tradizione del Babbo Natale, del piccolo regalo ma comunque della partecipazione e dello stare insieme. Sempre l'8 dicembre abbiamo la possibilità al mattino di cimentarci con due iniziative un'iniziativa nuova ma molto rilevante secondo me e quattro passi tra zucchero e farina che si terrà l'8 dicembre a Ponte Longo Ponte Longo è la città dello zucchero qui esiste uno storico zuccherificio infatti che produce da più di 100 anni il prodotto che prima ho indicato e la quattro passi tra zucchero e farina prevede dei percorsi da 7, 14 e 21 chilometri la partenza è da Largo Cavaliere di Vittorio Veneto dalle 8 e 30 alle 9 e 30 proprio giovedì mattina per quanto riguarda la marcia di Arquapetrarca siamo alla 21esima edizione quindi un evento consolidato questa si terrà domenica 11 dicembre del 2016 alle ore 8 la partenza questa è un collinare quindi una marcia più impegnativa a differenza di quella di giovedì a Ponte Longo che è completamente pianeggiante e la marcia di Arquapetrarca è da 7, 13 e 19 chilometri 19 chilometri sono impegnativi proprio perché è una marcia collinare quindi ricapitolando le marce della settimana in provincia di Padova giovedì mattina alle ore 8 e 30 Ponte Longo mentre per quanto riguarda domenica 11 c'è la 21esima marcia della città di Arquapetrarca ad Arquapetrarca abbiamo la camminata dell'immacolata anche questa una tradizione perché ormai è da 13 anni che viene organizzata per quanto riguarda la provincia di Rovigo per quanto riguarda Orgiano provincia di Vicenza abbiamo l'ultimo passo d'autunno 3, 5, 15 e 30 chilometri quindi anche qui un percorso anche impegnativo quello dei 30 chilometri per quanto concerne la provincia di Verona sempre l'8 dicembre abbiamo la marcia del giocattolo da 5 e 12 chilometri che si terrà a Verona città poi abbiamo gli appuntamenti di domenica 11 fuori provincia a Verona, a Cologna, a Veneta la marcia del Mandorlato 6, 10 e 18 chilometri sappiamo che Cologna, a Veneta è proprio la città del Mandorlato per quanto riguarda la provincia di Vicenza ed esattamente a Marsan di Marostica abbiamo la passeggiata tra le colline di Marsan 7, 13 e 21 chilometri con la carrellata delle marce di questa settimana io ho concluso possiamo dire che non c'è possibilità di dire che non ci sono eventi questa settimana tutt'altro abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta quindi io vi aspetto questa sera alla Palle Oran e poi domani, giovedì mattina vi aspetto a Ponte Longo ad un'altra marcia FIASP interessante e spero di vedervi domenica 11 a Tarqua questi appuntamenti sono appuntamenti in prossimità del Natale quindi se qualcuno vuole mettersi qualche berretto da Babbo Natale è ben accetto io vi auguro un buonissimo Ponte dell'Immacolata con delle camminate lunghe e degli allenamenti fruttuosi e ci vediamo la settimana prossima Caffè 24, Radio Genius e FIASP vi hanno presentato Podismo Informato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti